Incastonata in un antico palazzo nel centro storico di Roccamandolfi, la mostra dei presepi nel mondo, anche quest'anno sarà aperta al pubblico per tutto il periodo delle festività natalizie. Un centinaio di opere d'arte realizzate a mano, provenienti da ogni angolo della terra, che regalano uno scorcio di rara bellezza e una vetrina di pezzi pregiati. Le rarità custodite in uno spazio assai suggestivo, che evoca ricordi di altri tempi, sono di proprietà della collezionista Raffaella Nicoletta, la quale ha affidato alla Proloco l'onore di esporle esclusivamente nel centro montano, noto nell'area matesina per la straordinaria accoglienza e la variegata offerta turistica. Già da qualche anno in realtà che il calendario del Natale a Roccamandolfi è abbastanza importante e corposo. Quest'anno, grazie anche ad altre neonate associazioni di volontariato sul territorio, il calendario è ancora più ricco. Quindi i motivi, come giustamente dicevi tu, sono di carattere sportivo ma anche culturale. Quindi a cominciare dalla rassegna teatrale Briganti a Teatro, che propone quattro serate di interesse culturale importante, alla mostra dei presepi che per il secondo anno fa bella mostra di sé. Sono i presepi dal mondo, 101 circa pezzi da una collezione di una signora di Isernia che per tutta la vita ha collezionato questi presepi di valore importante. Poi dalle serate ricreative, la serata anni 60 del 2 gennaio, il 26 con la passeggiata nel borgo dei briganti con visita guidata e diversi motivi davvero per vivere questo piccolo borgo e stare insieme a noi. Dunque mille motivi per venire a Roccamandolfi e visitare le meraviglie di questo paese dell'area matesina.